180 metri in più che portano ad 800 quelli disponibili per l'approdo di navi da crociera lavoro infatti in 10 mesi costati 18 milioni di euro che hanno consentito anche il consolidamento dell'intero molo. Quest'anno saranno 105 le navi da crociera da approdare a Salerno ma il numero crescerà e quando la banchina sarà prolungata fino al molo Francifrutti un chilometro sarà potranno attraccare insieme tre navi da crociera vorrà dire che potranno sbarcare fino a 12.000 croceristi. Il grande discorso in corso e quindi da realizzare entro 3-4 anni è il prolungamento ancora di più del molo Manfredi, l'abbiamo allungato, siamo a 500 metri, mezzo chilometro, pensiamo di arrivare a un chilometro quindi avere anche tre navi o quattro navi impegnerà una fetta dell'economia locale importantissima. Sarà prolungata la stagione croceristica fino al 31 dicembre, si cercherà anche di arrivare alla manifestazione di lucidi artista. Manca a questo punto solo l'ultimo tassello, la stazione marittima di Zadid, opera finita, ferma al palo per colpe ben precise, dice il sindaco Enzo Napoli. Per il completamento dell'opera serve un parere della regione Campania sul quale la regione Campania è in meditazione da 3 anni e 2 mesi, in parere su un muro per un cedimento che si è avuto durante una mareggiata. Tutto qui stanno studiando da 3 anni e 2 mesi. Credo che in tempi ragionevoli, anche in considerazione che probabilmente alla regione Campania sicuramente succederà qualcosa di rilevante, probabilmente finiremo in tempi ragionevolmente brevi l'opera che già è compiuta.